In questo PowerPoint vedremo in breve le fasi del nostro corso legato all'uso della LIM, in particolare col software Active Inspire. Il corso è concepito come base, vale a dire rivolto a tutti quelli che ancora non sono esperti nell'uso della LIM. Si farà poi cenno alla fine anche a delle funzioni avanzate di modo da vedere tutte le potenzialità del software, che ripeto nel nostro caso sarà Active Inspire della LIM Promethean. Il corso sarà essenzialmente strutturato in questi passaggi. Vedremo innanzitutto una breve carrellata su chi siano i nativi digitali e su cosa sia oggi l'apprendimento multimediale, perché avvicinarsi alla LIM significa capire i ragazzi che abbiamo davanti e capire anche come funziona, anche se solo in generale, l'apprendimento multimediale che ha delle regole di funzionamento piuttosto diverse da quello tradizionale. Dopodiché saranno soltanto video tutorial. Il primo legato a come scaricare e installare il software Active Inspire dal sito del produttore. Il secondo video sarà invece legato al layout del software. Il layout è l'apparenza dei menu e come compaiono i menu, l'interfaccia del software, visto che Active Inspire consente di avere più interfaccia in base anche ai nostri bisogni e necessità. Dopodiché il terzo video sarà quello più importante. Sarà legato alle funzioni di base. Qui illustreremo le principali funzioni del software, in particolare la penna, la gomma, le forme, per esempio, il cambio pagina. Dopodiché con le funzioni di base già cominceremo a strutturare una semplice lezione, perché la cosa importante da capire è che con Active Inspire, anche solo usando le 5-6 funzioni più semplici, è possibile creare subito una semplice lezione. Poi vedremo decenni alle funzioni avanzate, giusto per comprendere quali sono le potenzialità del software. E infine vedremo anche dove poter scaricare le lezioni già svolte. In definitiva gli obiettivi del corso sono essenzialmente quattro, vale a dire avere una panoramica su quelle che sono le principali teorie dell'apprendimento e su chi siano i nativi digitali e su quanto oggi sia problematica questa definizione che non da tutti è accettata. Dopodiché sapremo anche come installare il software e da dove scaricarlo. Poi sapremo strutturare una lezione semplice, quindi anche salvarla. E infine saremo anche capaci di reperire delle lezioni già svolte dai nostri colleghi online, in italiano e anche in altre lingue.